La marmellata Dai, per favore Non mi va di andare in cucina Passa su FaceTime Oddio, guarda che faccia Diciamo che non sei Gina Lollobrigida E chi è? Non lo so Lo dice sempre mio padre e mia madre Quando lei si lamenta del suo aspetto Aspetta, me lo scrivo Com'era? Ripeti, Logina, Lollo Lollobrigida No, no, però adesso basta, Ianka Devi tornare a studiare Senti, Abel, devo andare Ricorda le tre cose Bastano solo quelle tre cose, va bene? Un bacio Ciao Salam! Grazie a tutti! Grazie a tutti.